E' stata un'amministrazione inconcludente, sciatta e rispettosa del ruolo delle istituzioni e delle realtà che rendono viva la città. Lo hanno ribadito a più voci i rappresentanti delle otto liste che sostengono a Lodi la corsa di Andrea Furegato, sindaco della città. Cosa non è stato fatto in cinque anni dalla giunta a Casanova Maggi? L'elenco è lungo, si va dai mancati interventi in ambito ambientale alla chiusura nei confronti delle associazioni sportive e culturali, dagli interventi promessi, ferrabini, sottopasso ferroviario e strade e mai realizzati, alla vera e propria umiliazione del Consiglio Comunale. In aula si sono sentite solo le parole delle opposizioni. Ora, in piena campagna elettorale, la giunta sta cercando di recuperare in tutta fretta quello che non si è fatto in cinque anni di amministrazione, una corsa contro il tempo che ha tutta l'aria del tentativo disperato di uno studente delle superiori di evitare la bocciatura. I lodigiani cadranno ancora nella rete delle promesse proiettate nel futuro? Lo si saprà solo a giugno, ad urne chiuse, quando saranno loro a dare il giudizio definitivo su una giunta che in questi anni ha fatto ben poco per farsi voler bene. Grazie a tutti.